L'entusiasmo con cui le forze di polizia locali di tutta la regione trovano in questa giornata è un momento in cui viene riconosciuto il lavoro fatto da tanti durante tutto l'anno. Per noi è un'espressione di gratitudine nei confronti di chi giorno e notte, spesso all'aperto, dà un contributo fondamentale alla vita del territorio, a una vita ordinata, al rispetto di quelle regole che servono poi alla convivenza civile. Il fatto che nelle Marche si distingua in maniera chiara anche questo modo di collaborare, di stare insieme, è un valore aggiunto perché nel confronto delle esperienze, nel cambio che si fa quando si confronta, si si arricchisce e si è in grado di offrire sempre di più e sempre meglio il servizio ai cittadini. Quindi oggi è il giorno in cui ringraziamo per questo lavoro, sapendo che di fronte c'è un altro anno importante di presenza e di attività a servizio delle comunità.